Ciao a tutti, oggi siamo in Piemonte nella provincia del Verbano Cusiossola, in Val Grande. L'idea era quella di partire da Cappella Fina, sopra Miazzina, e arrivare al rifugio di Piancavallone. I più attenti avranno notato però che il corso d'opera è stata cambiata la meta, e dopo vi dirò fin dove siamo arrivate. Con me c'è Parovia! Ciao a tutti! Finalmente ci siamo ritrovate, ci abbiamo fatto organizzare, e noi abbiamo lasciato l'auto nel posteggio gratuito a Cappella Fina. Da lì ci sono diversi sentieri che portano a Piancavallone. Noi abbiamo preso quello più a sinistra, che passa dall'Alpe Cavallotti, sotto al Pizzo Pernice. Da lì, cioè prima i sentieri si ricongiungono, volevamo fare una piccola deviazione a Curgei, poi abbiamo cambiato ancora idea. Però ripartiamo dall'inizio. Buona visione! Da qui si può proseguire dal percorso turistico, che parte sulla destra della Cappellina, o da sinistra passando dall'Alpe Cavallotti. Noi adesso passiamo dall'Alpe Cavallotti, Pizzo Pernice, e poi andiamo a Piancavallone. Quella è l'altra strada che porta a Piancavallone, rimane più bassa e tutto un dentro fuori. Noi proseguiamo di qua. Abbiamo da poco superato l'Alpe Cavallotti e si apre una vista magnifica, siede il Lago Maggiore, dietro il Lago di Varese, il Sosso del Ferro, il Campo dei Fiori di Varese, tutti i Pizzoni, un gruppo con Montenudo. Meraviglioso! Continuando dritte, si arriva a questo segna via, che indica tantissime deviazioni. Noi proseguiamo dritte verso Pizzo Pernice, in mezzo alle felci, sempre più alte. Eccoci, adesso stiamo per passare in mezzo a queste belle felci. Siamo in pantaloncini, quindi bisogna poi fare attenzione alle zecche e faremo un accurato controllo. Siamo ricongiunte al sentiero che saliva da Cappella Fina, quello che rimaneva più sulla destra. Da qua si vede anche il Mottarone. Pizzo Marona, con la cappellina, proprio in lontananza. Ci sono anche alcuni tratti su roccette, ma si sale bene. Non si può perdere sentiero perché è l'unica traccia che c'è ben segnalato. Pizzo Marona Pizzo Marona Grazie a tutti. Si passa da fianco a questa cappellina e si prosegue. Arrivate a questo bivio, decidiamo di fare una breve deviazione per l'Alp Urgei, che danno 10 minuti, poi torniamo qui per proseguire per Piancavallone, che danno mezz'ora. E adesso si apre una vista meravigliosa nel cuore, verso il cuore della Val Grande. Abbiamo cambiato idea, invece di andare a Urgei stiamo andando verso il Pizzo Barora. Ci proviamo. Vediamo fin dove arriviamo. Adesso la prossima metà è la cappellina, se non ribalto, a Piancavallone dove faremo merita. Povera. La rovia strascinata in Val Grande. Quindi praticamente lì c'era la deviazione, lì l'altra deviazione per il Pizzo Pernice e il Curgei, che abbiamo deciso di non fare o di fare al ritorno. Adesso abbiamo preso questo sentiero e proseguiamo di qua. Su lì a sinistra si vede la croce di Piancavallone, qua si passa di fianco al ricovero invernale, il rifugio Piancavallone danno un quarto d'ora. Adesso è chiuso, è inagibile a causa Covid e poi si prosegue. Qua si vedono proprio le tracce del passato, della storia, quelli sono buchi di proiettili. Dopo poco più di quattro chilometri e mezzo siamo arrivate a Piancavallone, si vede alle mie spalle il rifugio, che è il rifugio del Cai. Poi si vede il monte Todano, la cappella di Piancavallone, dietro c'è il monte Zeda, si intravede proprio dietro la cappellina e Pizzo Marona. In giro di oggi è da Cappella Fina, che rimane sopra Miazzina, a Piancavallone, passando sotto Pizzo Pernice, poi la Cresta, vivacco il rifugio invernale, sotto la croce. Adesso siamo alla cappella di Piancavallone, andiamo verso la Forcola, poi decidiamo se andare verso Pizzo Marona, se salire al Todano e poi tornare a Cappella Fina, decidiamo bene più avanti. Adesso passiamo a sinistra della cappella e andiamo verso Pizzo Marona. Qua bisogna fare attenzione perché indicano che ci sono tratti difficili attrezzati con catene. Si prosegue a mezza costa fino alla Forcola. Da qua si vede il Pizzo Pernice, il prato di Curgei, Cicogna, i corni di Nibbio, l'Alpe Prà, poi si sale verso Cima Sasso, c'è il Vedum, la Cima della Laurasca, Pizzo Marona e Monte Zeda. A sinistra indicano la Soliva, Tregugno, Cicogna, Cicogna a tre ore, noi però stiamo sulla destra. Si passano un po' di tratti con roccette ma sono comunque attrezzati. Siamo arrivati al Collo della Forcola, a 1518 metri. A volendo si può girare a destra verso il Todano e anche questo pezzo sale abbastanza. Noi invece andiamo a sinistra verso Pizzo Marona, un'ora e 35. Adesso inizia la salita. Si vede la Croce del Todano, questa è la Valle Intrasca, probabilmente l'Alpe Piaggia e la strada militare che sale verso il Rifugio di Pian Vada, che si vede là, in lontananza. Il sentiero dalla Passa della Forcola sale deciso, sono circa 500 metri di dislivello. Adesso di fronte si vede la Cappella della Marona. C'è tantissima vegetazione quindi bisogna fare attenzione e dei tratti attrezzati. La vista è fantastica, l'accordo. Eccola lì la Cappella del Pizzo Marona, siamo sempre più vicine. Siamo arrivati, adesso è il tratto della Scala Santa, che è uno dei tratti più impegnativi. Va su di livello britto. Sono dei pali, è sempre attrezzato anche con capene e c'è una placetta che indica il rischio. Ed eccoci al Passo del Diavolo. Questo è un altro dei tratti più impegnativi per arrivare a Pizzo Marona e appena sopra c'è la Cappellina. Asso del Diavolo 1875. Ciao! 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 Poco più di sette chilometri e mezzo siamo arrivati alla Cappella della Marona, abbiamo fatto pausa pranzo, adesso stiamo finendo di mangiare un po' di dolciumi e poi ripartiamo. Come al solito la meta è cambiata in corso d'opera perché la meta iniziale doveva essere Piancavallone, adesso vi faccio vedere dove è. Allora dovevamo arrivare... Giù là praticamente, nel pratone sotto là. Quindi l'abbiamo allungata giusto un pochino. E la vista da qua è fantastica, sia sulla Val Grande che sul Lago Maggiore, adesso vi faccio vedere. Da qua si vedono la cima della Laurasca, questa si vede la croce, poi il bivacco di bocchetta di campo, proprio davanti al pedum. Eccolo lì. Questo è il pedum. Ciao pedum! Cima sasso. E poi la dorsale che scende verso l'Alpe Pra. Dietro i corni di Nibbio. Questa è la casa dell'alpina, Alpe Pra. E in basso c'è Cicogna. Poi si vede Montorfano, dietro il Lago d'Orta, il Montarone, Pizzo Pernice, noi siamo passati prima appena sotto. Proseguendo c'è il ricovero invernale di Piancavallone, la cappella di Piancavallone, il Todano, sotto il Lago Maggiore, dall'altra parte l'Aveno, Sosso e Ferro e Pizzani di L'Aveno. Una farovia. Eh sì, faccio dell'altro lato. Si vede anche l'Alpe Cuggei, un bivacco, che rimane sotto a Pizzo Pernice. E l'ho salita anni fa partendo da Cicogna. Di qua invece si vede il Monte Morissolo, con la clinica di Piancavallo sulla destra. Poi c'è lo Spalavera, la strada militare che sale a Pianvadà, un bivacco di Pianvadà, e poi si prosegue in cresta per il Monte Zeda. Adesso da qui rimane nascosto. Dietro c'è il gridone. Da qui passa anche il sentiero Bove, che percorre tutte le creste della Val Grande. È un giro ad anello che prima o poi mi piacerebbe tantissimo percorrere. Ne ho fatti un po' di tratti isolati, diciamo, nel corso degli anni. La Pizzo Marona si potrebbe proseguire per il Monte Zeda, però oggi ci fermiamo qui. Già dovevamo arrivare a Piancavallone l'abbiamo allungato un po' e abbiamo i tempi un po' ristretti e ci godiamo di più la discesa. Ero già stata al Monte Zeda salendo sia da qui, sia passando dal Rifugio Pianvadà che da Falmenta, quindi si può raggiungere da diverse strade. Possivamente vi farò vedere magari in qualche video una di queste per raggiungerla. Comunque volendo, da qui danno tre quarti d'ora, è sempre più o meno su cresta o appena sotto, è sempre dritto, quindi è impossibile perdersi. Per chi volesse può continuare. Noi adesso torniamo indietro. appena oltre la cappellina c'è la croce e il sentiero prosegue per il Monte Zeda. E dopo Pasa Pranzo siamo pronte a ripartire. Facciamo lo stesso sentiero dell'andata fino a Piancavallone e poi vediamo da farsi perché da lì partono diversi sentieri che riportano la cappella fina. Ho visto un camuscio che si è nascosto. Eccolo, c'è bello! Che meraviglia! Siamo tornati al Colle della Forcola. Adesso faccio una piccola deviazione al Monte Todano e poi scendo di nuovo alla cappella di Piancavallone e da lì proseguiamo. E dopo circa 10 km dalla partenza sono arrivata a Monte Todano dalla Forcola a sentiero sale nuovamente in mezzo anche a Rododendri quindi non è proprio pulito. Ci si graffia un po' le gambe. Però da qui la vista è fantastica. e la cappellina adesso vado e questa è la croce dietro si vede il Pizzo Marona a Monte Zeda dell'Aves eravamo proprio sulla nel punto più alto primo approccio della Val Grande e dai riuscito benissimo sono quasi le 6 di sera e la luce è proprio cambiata si vedono le isole Borromeo che prima non vi ho fatto vedere bellissimo allora abbiamo proseguito sempre dritti dopo la cappella di Piancavallone per il sentiero lo stesso dell'andata all'andata eravamo arrivate da qui da destra mentre adesso proseguiamo sulla sinistra qua si arriva sempre a Cappella Fina arrivando dalla strada che diventa poi sterrata e larga si arriva a questo bivio Cappella Fina andiamo in basso in alto si va verso l'Alpe Cavallotti manca un quarto d'ora ormai ci siamo in buon segno in basso a sinistra si vede l'altra strada che arriva sempre da Piancavallone che passa da Cappella Porta rifugio Piancavallone 90 minuti ed ecco Cappella Fina questo è il sentiero più basso e noi siamo arrivati da qui e dopo 15 chilometri e circa mille metri di dislivello siamo arrivate a Cappella Fina in giro il corso l'ultimo pezzo è il bello sprint ecco lo sprint finale adesso davanti a noi c'è Cappella Fina eccola praticamente arriviamo alle spalle della Cappella e il giro di oggi è finito le vuoi dire qualcosa? certo commentate mettete like mi raccomando e iscrivetevi al canale perché ancora non l'ha fatto e lo stambecco dell'Ago Maggiore e anche a quello di Faro Via certo ci vediamo per qualche prossima avventura ciao ciao buone camminate ecco siamo al retro della Cappellina stamattina siamo salite sulla destra tornata intra fino a poche ore fa ero sulla pizzo marona e adesso torno sulla sponda lombarda e adesso torno Grazie a tutti. Grazie a tutti.